Aldo Brebanti è stato partigiano, filosofo, artista, ma soprattutto è diventato noto per essere stato vittima di una delle pagine più buie della storia dell'Italia repubblicana. Un'assurdità. Un'assurdità. Brebanti non era lì a plagiare la gente. È un caso che spacca l'Italia in due perché lo difendono anche altri intellettuali, non so, Umberto Eco, appunto Pasolini. No, il processo se ne parlava tutti, voglio dire, subito è diventato uno scandalo. Il processo cade nel 68, l'anno della massima liberazione. Si agiva proprio in casa sua, una camera, mi ricordo, lunga, in questa stanza di diallo, in questo teatro, violentissimo. La corte di Chiara fa i banni alto colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione. Il momento della condanna è stato davvero un momento sul piano umano molto, molto, molto duro, molto duro. La corte di Chiara fa i banni alto colpevole del reato ascrittogli e lo condanna è stato davvero un momento sul piano. La corte di Chiara fa i banni alto colpevole del reato ascrittogli e lo condanna è stato davvero un momento sul piano. La corte di Chiara fa i banni alto colpevole del reato ascrittogli e lo condanna è stato davvero un momento sul piano. La corte di Chiara fa i banni alto colpevole del reato ascrittogli e lo condanna è stato davvero un momento sul piano. La corte di Chiara fa i banni alto colpevole del reato ascrittogli e lo condanna è stato davvero un momento sul piano.